Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale QQQVlogs, oggi sono qui per portarvi un nuovo video su gioco delle armi Intanto ho fatto una intro un pochettino strana Tipo l'intonazione è andata a salire, non so neanche io perché Comunque siamo su gioco delle armi ragazzi Sapete che una volta a settimana porto questa modalità, ecco, questa tipologia di video E oggi sono senza facecam perché ho voluto fare un video senza Perché, boh, fare un video senza facecam vi aiuta a concentrarvi di più sul gameplay E di, come si può dire, portarvi più nel vivo del gameplay Ecco, quindi qualche volta ci sa portarli senza Ad ogni modo, siamo appunto su gioco delle armi Uno in tre, va bene No, va bene, entreranno immagino Comunque, sfrutto questo tempo per dirvi un po' di cose Sostanzialmente è una la cosa che devo dirvi, è che non immaginate che debba dirvi chissà che cosa Volevo dirvi, proporvi più che altro Una cosa, ero intenzionato, su vostra richiesta, a fare una nuova serie Inerente al gioco delle armi Una serie che si chiamerà Road to World Fastest Gun Game O, non lo so, sì, probabilmente sarà questo Sarà, come avrete già capito Un Road to World Fastest gioco delle armi Come quello di tutti i contributi, più o meno siamo lì Perché questo? Perché alla fine porto un episodio di gioco delle armi a settimana E anche perché ormai il Road to World Fastest Free for All è giunto al termine Nel senso, in teoria io ho fatto il TCT più veloce del mondo Quindi è inutile fare altri video, altri episodi Quindi, la mia idea era appunto quella di fare questa serie Quindi vi dico una cosa, se siete interessati a vederla Proviamo a fare una cosa Raggiungiamo 10.000 like a questo video Che sono tanti, ma un po' di più rispetto a quelli che facciamo di solito E non è che sto lanciando cifre così a caso È giusto per capire se vi interessa Se li raggiungiamo ragazzi, dalla prossima settimana iniziamo con questa nuova serie Quindi sta tutto a voi ragazzi 10.000 like che tra l'altro specifico che non mi fanno guadagnare nulla Nel senso, soltanto a cose estetiche Ecco, non hanno nessun guadagno E niente, è faremo... Oh, appena ho trovato una lobby nuova E appunto faremo questa nuova serie Sta a voi ragazzi Voglio semplicemente capire se vi interessa Solo questo, non ho nessuna pretesa Cioè, tanto ve l'ho già detto I like non servono a nulla Sono una votazione Una votazione che fa piacere ricevere Quindi quando uno vi chiede like è per vedere appunto la votazione positiva E in questo caso la stiamo usando come votazione per una nuova serie Ecco Comunque, la lobby sembra abbastanza buona C'è anche uno al maestro Sarà il nostro rivale Blood, ricordatevelo Blood 494 Il gioco delle armi è sempre una modalità combattuta Quindi ci dobbiamo impegnare ragazzi Impegniamoci perché ogni volta Qua ce la sudiamo Mori Ora, ecco, questo qua è un problema Grosso anche Sto morendo Io le odio queste pistole Le odio a morte Le odio a morte Fanno schifo Accessoriate così Che non entrano i colpi precisi Vanno proprio a caso Quindi Logicamente Guarda, guarda che merda Di armi inutili Cazzo, se giocate con queste armi ragazzi Vi dovete disiscrivere No, sto scherzando Però ve lo giuro Non potete giocare con queste armi se le usate Normalmente dico A Kimbo Perché fanno schifo proprio Cioè, tutte le armi che ci sono in gioco delle armi Non le dovete usare Perché sono accessoriate tutte male Spero volutamente Non penso che I sviluppatori siano dei ritardati Che fanno le cose Che siano convinti veramente Che queste armi siano buone Perché Sono veramente oscene certe cose ragazzi Ve lo dico proprio Questo è fermo Ottimo Questo mi hara adesso Quando abbiamo uno Cazzo Aspetta Mi devo aggrattare il naso Cazzo Ok No No, sono morto Credo Sì Vaffanculo Oh Andiamo qua dietro E ci mettiamo qua Oddio No, no, no Ok Temporeggiamo Sono morto Sono morto Fanculo a me Che mi metto in queste situazioni Con queste armi Andiamo qui Oddio Oddio Cosa sta succedendo Ma È tipo Una delle pariti più strane della mia vita Con il cecchino Ora sono morto Ormai lo dico sempre Perché è scaramanzia Ma davvero Sono morto Cioè appena me lo trovo davanti Sono proprio morto Guarda Ora sicuro mi è sponato Qui Vaffanculo Oddio Oddio L'abbiamo preso Qua c'è il tipo Che sta arrivando Sicuramente Cioè giochiamo da lontano Così se caniamo il colpo Logicamente abbiamo tempo Per andarcene Cosa L'ho preso E mi ha dato un colpo In wallbang No vabbè Che sei kill Ve lo giuro ragazzi C'è queste cose Solo call of duty Emozioni da call of duty Proprio queste Andiamo qua Il nostro nemico È sotto di brutto Il nostro amato maestro prestigio Questo impatto diretto Li abbiamo fatto Uh cosa ci ho fatto zio Malissimo proprio Sgozzato come un vitello Che poi i vitelli Non credo si sgozzino Perché sono troppo grossi Forse un capretto Sì Qua c'è uno Lo aspettiamo qua Al varco No Lui 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 È morto Tonerre Tonerre 96 Si chiama Come si chiama 3946 Povero Le abbiamo spaccato La testolina Povero cucciolo Guardate Lo stavamo aspettando E comunque ragazzi Adesso cazzate a parte Adesso faccio un'altra bella partita Perché mi avete detto Di farne di più In un video Magari Se vogliamo Ne facciamo anche tre Vediamo ragazzi Vediamo Quindi ci becchiamo Alla prossima A tre poco Ok ragazzi Siamo nella stessa lobby Non mi ho accorto Ma Non so se c'è da prima Ma c'è una certa serena Una ragazza Attenzione ragazzi Doviamo giocare con calma Perché qua la situazione Potrebbe sfuggirci No sto scherzando Chiaramente E' uscito il nostro rivale E' uscito Però E' entrato Uno spagnolo Credo che sia entrato adesso Quello cosiddetto Esp nella tag E quindi giustamente Entreremo diciamo In modalità Cazzo Toreri E gli faremo provare Quello che fanno provare Loro ai tori Ok Era No non era lui Ma lui lo dobbiamo ammazzare Col col coltello Sarà il nostro toro Mori Cazzo quanto lo sapevo Che mi venivi a prendere Cazzo la parata No 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 Ma vaffanculo Ma quello rimane fermo Cazzo Avevamo iniziato bene Mori Pensate che ne abbiamo Un altro dietro Povero illuso Andiamo qua Credo che ce ne sia uno Che vuole salire Qua sopra Credo eh Ma non c'è nessuno Nessuno Ok c'è uno Che ha appena sponato E vuole scappare Da noi Ma chiaramente Non può Perché Siamo più veloci Che arma ha sto tipo Che mi ha tipo Ole Ole Perché qua ce ne è uno No Però c'è lui Oh oh Quanto siamo? 12-1 ragazzi Cazzo Quanto l'odio Quest'arma Oddio Non muore questo tipo Muore Cazzo Quanto è facile Gestire gli spawn In questa Questa mappa Adesso Fermo qua E mi possono arrivare Stavo per dire Una cazzata Menomare che sono stato zitto Oh No 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 ragazzi Mi ha dato un Minchia col pompa Proprio quello col pompa Dovevo trovare Col pompa a cecchino Ok Let's go Questo è morto Let's go Minchia Cazzo sono nella merda No E let's go L'abbiamo arato Sto dicendo let's go Tipo come ogni Ogni parola Comunque minchia Partita migliore di quella di prima Questa eh Non male ragazzi Non male Comunque siccome me l'avete chiesto Ieri Di fare più partite Ne facciamo anche un'altra ragazzi Oggi tre partite Voglio un record proprio di like Per questo video Quindi niente Ci ribecchiamo tra poco Con la terza partita di oggi Raga Tra poco Ok ragazzi Terza partita di oggi La lobby è sempre la stessa Stiamo provando a fare un back to back Proprio Ehm E' entrato Roberto Amo Ross E poi c'è sempre Serena Mi sa E' uscita Oh Ma era in lobby Cioè come stava caricando C'era ancora Vabbè E' un po' cambiata Allora praticamente No c'è ancora il tipo Feuton R Quello che abbiamo tipo scapocciato Nella prima partita E niente Nuova mappa almeno Ultima partita di oggi ragazzi Cerchiamo di fare i video un po' più lunghi Visto che Chiaramente queste partite durano poco Quindi se ve ne porto una o anche due Il video dura poco Però voglio essere proprio benevolo Quindi cerchiamo di farla durare un po' di più Allora Ehm Qua non c'è nessuno No Ok qua Mori Queste cazzo di pistole Mi faranno morire Lo so già Lo so già cazzo Ogni volta Devo sparare mille ore Per ammazzare qualcuno Pistole più senza Senso della storia Mori Oddio C'è il tipo Che mi viene a prendere E vai con l'hit marker Ancora Ma cazzo è possibile che faccio doppi hit marker Farò abilità proprio Ai nemici Ne abbiamo uno qua Cazzo 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 Sono circondato Mori Mori merda Ma vaffanculo Raga ma questa roba Si è tipo rivoluzionatezza Sono tutti dei Piccoli avventurieri Che corrono per la mappa E mi circondano Piccoli esploratori Mori Mori Nessuno qua Mezza mappa Abbandonata Sono solo io Mori C'è uno Perfetto C'è un altro Cazzo però Dei morire Oh Ma nessuno Perché uno di cui L'erla sempre con due morti Ma l'avete impossibile Cioè Bravo Cazzo Roberto Amoros Grande È caduto giù Mori Mori Oh a questo punto non è male Sapete C'è avanti indietro così Me li becco tutti come sponano Ora ora Adesso c'è lui No Devo approfittarmene Cazzo però c'è il pompa Sto tipo Ok Cazzo mi stavo uccidendo Eh ora sono morto Ora sono cazzi Anche perché l'ho preso Cazzo mi sta parlando A prendere da dietro Bastardo Oddio Oddio ragazzi Cosa abbiamo appena fatto No ma Oddio ho preso Impatto Cazzo Ma basta Oddio cosa sta succedendo Questa partita Eh siamo morti Cioè ma cazzo Lancia missili Che non ammazza Questo c'è Abbiamo dietro Madonna che palle L'arma è più facile di tutte Non riusciamo a farla Vabbè stai già sul cazzo Te lo dico Vi giuro Oh Ciao Madonna Ma che cazzo Ah Oh che culo L'aveva ferito l'altro Che culo Che culo Va bene ragazzi Per oggi direi che è basta Tre partite vanno più che bene Abbiamo fatto 22 22 23 Mi pare O 23 No 23 22 24 Se non sbaglio Direi che non è male Sessa lobby Nel senso Tre perte di fila così Una dopo l'altra Niente ragazzi Vi ringrazio per aver visto il video Vi ricordo appunto Se volete la nuova serie Road to Road to Stocats No Road to World Fastest Gang Game 10.000 like ragazzi E niente Vi ringrazio se avete visto il video Sino a qui Fatemi sapere cosa ne pensate Se vi è piaciuto E noi ci becchiamo domani Con un nuovo video Alla Rece 3 Ciao 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 Ciao